Saldi invernali dal 5 gennaio al 18 febbraio 2016. Con il nuovo anno in Liguria arrivano anche 45 giorni di vendita a prezzi ribassati. Almeno tre giorni prima dell'inizio dei saldi, i commercianti che vorranno aderire dovranno esporre un cartello ben visibile per tarne comunicazione. Durante il periodo dei saldi, inoltre, i commercianti dovranno esporre i prezzi praticati prima della vendita di liquidazione, i prezzi che si intendono praticare durante la vendita e il ribasso espresso in percentuale. Oltre a questo, deve essere evidente la separazione delle merci in saldo da quelle vendute a normali condizioni. Le regole di riferimento per i saldi di Liguria sono quelle contenute nella delibera approvata dal Consiglio regionale nel dicembre del 2012 e riferite alla legge regionale del 2007 sulla programmazione del commercio al dettaglio in sede fissa.